La mafia si è costruito in Sicilia un sistema che si può definire mafioso in larga parte ed è questo che va cambiando. La mafia entra là dove ci sono grandi interessi economici. Pio Latorre ha capito della mafia molte cose. La cosa impressionante di Pio era il coraggio. Un autentico siciliano, un palermitano profondo è stato Pio Latorre. È un ricordo che a me mi ha fatto molto male, è la mia vita. Il reato di appartenenza a un'associazione criminale mafiosa è un'intuizione di Pio Latorre. Il figlio di un barbiere di nome Vito Ciancimino ha voluto l'eliminazione dell'onorevole Latorre. Parlavamo dei delitti di Palermo, ora tocca a noi. Tocca a noi, perché tocca a noi.